Hai riflesso? Che sono? Specchio Sergio? Voleva dire riflettuto. Sì accetto, sì accetto. Voglio centomila euro. 50 a me e 50 al socio mio. Il socio tuo. Non ci vado da solo a fare questa cosa. Ma non mi stai esagerando un pochino? Ti avresti fatto uguale. Adesso dobbiamo riflettere noi. Adesso riflettiamo noi. Sergio. Che? Lascia perdere sto verbo, no? Non ti appartiene. Ma centomila euro. Non abbiamo tempo Sergio. Se quelli di giù scoprono quello che stiamo a fare e danno un pasto alle bufale. Le bufale? Ma quelle sono vegetariane, mi sa. Dici? Eh. Allora i maiali. Eh, i maiali sì. Quelli sono bestie. Quelli si mangiano tutto. Siamo d'accordo? Ma mi raccomando eh. Una parola sola. Una. E la vita tua vale meno del piscio che ho fatto stamattina. Si va ne? Mudo come una tomba. Ecco pensaci. A chi? A la tomba. Ma credi vedi i tuoi figli che stanno cuo nero e cuo bianco. E li devi mettere a contatto con quello serio. Perché sennò ti fa il corto, capito? Dammi lo straccio, sbrigate. Eh? Dammi lo straccio. Che annuisci. Quando ti guardo annuisci sempre, capito? Give me una posizione. Andare. E. E. e 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 sì ci ha creduto e te mi devi reggere il gioco non fai infame e